L'intelligenza artificiale può essere utilizzata a beneficio dell'umanità. Queste le parole di Sam Altman, creatore di ChatGPT, che ha invitato il congresso degli Stati Uniti a regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo di questa nuova tecnologia. Il capo della start-up sostiene che una corretta applicazione dell'intelligenza artificiale possa essere utile in ogni settore. La sua testimonianza fa seguito alla preoccupazione dei politici statunitensi che temono gli effetti di questi sistemi informatici sulla società, citando come rischi la possibile riduzione di posti di lavoro o l'uso di questi strumenti per la creazione di notizie false. Grazie a tutti.